San Piero d'Arena cambia, cambia ma comincia a cambiare da subito e poi ovviamente ci serviranno gli anni necessari per fare tutti i lavori, ma ci sono lavori che potranno essere portati avanti in uno o due anni, altri che richiedono 5 o 6 anni. Certamente abbiamo davanti una San Piero d'Arena che ritornerà a essere la bella San Piero d'Arena di 25-30 anni fa e anzi sarà ancora più bella perché sarà una zona residenziale con tutto il verde che abbiamo intenzione di mettere sul terreno e soprattutto con tutte le facilitazioni di abitazione tipo i parcheggi e tipo il trasporto pubblico locale. Il progetto è molto aperto, chiediamo la collaborazione di tutti i cittadini perché io ho ricevuto in questi mesi tantissime idee, più ne riceviamo meglio è perché ci danno la possibilità di fare veramente le cose bene. Ci ha voluto un po' di tempo, molto lavoro per ricomporre il quadro finanziario necessario che quota oltre 200 milioni, è un intervento molto vasto perché riguarda non solo la parte centrale di San Piero d'Arena ma anche tutto il sistema delle connessioni bassa Valpocevera di Negro. È un piano che sicuramente si caratterizza per un inserimento importante di verde con questi tre parchi, il parco lineare sulla copertura di lungomare Canepa che è un intervento che i cittadini chiedevano da molto tempo, tutta la sistemazione della zona collinare e quindi il forte belvedere, salita mille lire, collegamento con il campasso e poi il parco del ponte. Siamo contenti perché saranno anni di grande lavoro però credo che potremo veramente restituire una San Piero d'Arena cambiata, molto più moderna al passo coi tempi, inserita in una città sostenibile. Su San Piero d'Arena abbiamo 14 progetti che si dividono in tre tipologie, la prima tipologia è una tipologia infrastrutturale quindi di valorizzazione di ciò che è l'infrastruttura, le aree e gli spazi, dopodiché abbiamo una valorizzazione degli immobili di proprietà comunale che devono essere sicuramente rimessi a valore e la terza cosa è dei progetti di visione su aree che non sono ancora nostre ma sulle quali stiamo puntando. Alcuni di questi progetti sicuramente potrebbero dare una grossa mano a San Piero d'Arena per rialzare la testa, in particolare penso che sarebbe estremamente utile il recupero dei voltini ferroviari, sono oltre 60 quindi spero che magari si possa fare qualcosa di più ma sicuramente iniziare da 25 facendo installare opere di artigianato o comunque attività qualificanti sul territorio sarebbe sicuramente una cosa buona. Grazie